Atletica Brescia 1950, corsia 6, la veronese, Dalia Caddari, eccola qui, ragazza di Cagliaritana delle Fiamme Oro, Irene Siragusa esercito, altra ragazza, no, non ce ne sono ancora state di Toscana, è toscana anche la pisana Anna Bongiorni che le sta a fianco, Carabinieri Bologna, Chiara Melon, Fiamme Azzurra e in prima corsia Giulia Riva, Fiamme Oro. Lecito aspettarsi qualcosa da Dalia Caddari, le condizioni sono un po' cambiate, il vento è meno sensibile da dietro, un po' è tornato, come possa essere, è un po' trasversale. Berton all'esterno, Chiara Fiamme Gialle, Caddari scivola subito via, va a prendere Gloria Cooper all'interno, si sta ben difendendo, buongiorni, buongiorni all'interno, Caddari all'esterno, Caddari, buongiorni, Caddari, buongiorni, Caddari va a vincer lei, Caddari che adesso sì, scivola, scivola via con questo, 22,90. Ancora un eccellente risultato, vento stavolta nullo, quindi intrinsecamente leggermente meglio di quanto visto in batteria, potrebbe anche scendere di qualcosa un centesimo. Il titolo c'è, anche un risultato che fissa una posizione importante per i campionati mondiali. E Dalia Caddari.